Domani 1 gennaio, in occasione della giornata mondiale della pace, i sindaci di Bethlehem e di Sulmona daranno vita a un gesto simbolico che contribuirà a riproporre l'attenzione su problema della pace e Medio Oriente, accendendo in contemporanea una fiaccola alla base di due monumenti, 2000 e Behind, posati a Bethlehem e a Sulmona con l'intento appunto di tenere accesa la speranza. Il monumento in questione, realizzato dal presidente del Parco Nazionale della Maiella Franco Iezzi, ispirato alla pace e alle tre religioni monoteiste, è stato posato a Bethlehem, lungo la strada della Manciatoia, in occasione del grande giubileo del 2000. Una copia dell'opera è stata realizzata anche a Sulmona. I tre anelli, che rappresentano appunto il legame tra le tre religioni monoteiste, si sostengono in alto, a dispetto della legge di gravità sostenuti dal forte anelito della pace. L'opera fu ispirata da Papa Giovanni Paolo II, che volle benedirla in udienza privata prima della spedizione in Terra Santa.